coronavirus bollettino di guerra in Molise 65 nuovi casi positivi Sernia il centro più colpito con 20 contagiati 12 a Castelpetroso il sindaco da Polonio chiude il plesso tagliente dell'infanzia di San Lanzaro. Redderazione tra stato e regioni il confronto è terminato in tarda mattinata durissimo il commento del ministro Boccia dove sono finiti i ventilatori il presidente Toma in Molise ha fatto i compiti a casa. 10.000 contagi in Italia e 55 morti il governo Conte pensa al coprifuoco stile Francia tutti a casa entro le 22 l'opinione dei cittadini Toma in Molise per il momento non serve. È tornato a casa il vice direttore della BCC di Gambatesa accoltellato da un collega lo scorso 8 ottobre l'avvocato cecanese psicologicamente molto provato non c'erano precedenti tra i due intanto gli inquirenti spulciano le immagini della videosorveglianza. Al Molise il riconoscimento di regione con il più alto covid safety index che calcola la percezione dei viaggiatori relativamente alle misure anticontagio adottate da hotel, ristoranti e attrazioni. Riconoscimento ottenuto grazie al lavoro degli imprenditori che si sono dimostrati all'altezza della situazione. Le istituzioni lo sono state? Tira allo sport il calcio di Serie D. Puntiamo alla salvezza. Ora la squadra è competitiva. Un nuovo direttore sportivo dell'Olimpia gnonese Strino lancia messaggi rassicuranti alla tifoseria. Fuzzal domani. Esordio casalingo. Per il circolo la nebbia. Cusmo Lisi. Buonasera, ben trovati con la nostra informazione. In apertura c'è il coronavirus. Quello di oggi è un bollettino di guerra. 65 positivi, 20. a Isernia, il centro più colpito, 12 a Castelpetroso. E allora tutti i particolari del servizio di apertura. Bollettino di guerra. 65 contagiati molise, 20 positivi a Isernia, alcuni dei quali fanno riferimento al cluster della San Giovanni Bosco. 12 contagiati anche a Castelpetroso. Effetti collaterali di un funerale dove evidentemente le regole anti-covid non sono state rispettate. Quattro positivi a Pesca e Venafro. Tre a Montenero di Bisaccio e Forli del Sagno. Due a Macchia di Isernia e Monte Roduni. Un positivo a Boiano, Bonefro, Campobasso, Cantalupo nel Sagno, Carovilli, Conca Casale, Fornelli, Macchia, Godena, Petacciato, Santa Maria del Molise, Santa Capito, Sant'Elena, Sannita, Sesto Campano e Termoli. Un ricoverato in malattie infettive con il totale che sale a nove. I casi attualmente positivi sono 335, 238, gli asintomatici a domicilio, 499, i soggetti di isolamento. Numeri record anche in tutto il resto della penisola. 10.000, 10 positivi, 55 morti, oltre 150.000 i tamponi processati. Collaboratore scolastico positivo al coronavirus, il sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio, chiude il plesso scolastico tagliente di San Lazzaro. La sospensione dell'attività didattica da domani fino al 26 di ottobre, il sindaco ha fermato l'ordinanza questa mattina. Ed un infermiere in servizio al pronto soccorso dell'ospedale veneziale di Isernia, residente in un centro dell'Alto Casertano, è risultato positivo al covid dopo il sospetto derivante dal test sierologico. Il dirigente del reparto, Lucio Pastore, ha disposto per l'uomo l'effettuazione del tampone molecolare che purtroppo ha dato esito positivo. I locali sono stati immediatamente sanificati, l'infermiere è stato posto in quarantena obbligatoria, mentre tutto il personale del pronto soccorso di Isernia in queste ore si sta sottoponendo al tampone. L'attività sanitaria è comunque garantita per quegli utenti che abbiano necessità ed urgenza di decarsi al pronto soccorso del veneziale. E da Oratino ci sono quattro positivi. Il sindaco Roberto De Socio invia precauzionale per consentire all'azienda sanitaria regionale di ricostruire con cura la catena epidemiologica. Ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine grado per gli alunni di Oratino. La campanella non è suonata questa mattina e non suonerà neanche domani. Questa mattina redderazione tra Stato e regioni. Il confronto è terminato in tarda mattinata. Durissimo il commento del ministro Boccia. Dove sono i ventilatori? Sentite. Il redderazione, Stato e regioni in videoconferenza. Durissime le parole del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. In questi mesi alle regioni abbiamo inviato 3.059 ventilatori polmonari per le terapie intensive, 1.429 per le subintensive. Prima del Covid le terapie intensive erano 5.179 e ora ne risultano attive 6.628 ma in base ai dispositivi forniti dovevamo averne altre 1.600 che sono già nella disponibilità delle singole regioni ma non ancora attive. Il problema è dove sono finiti i ventilatori? Attendiamo risposta in tempo reale dalle regioni. Rincara la dose il ministro per le autonomie regionali Francesco Boccia che aggiunge tutti i presidenti hanno autonomia di fare ordinanze più restrittive ma se abbiamo condiviso che i due pilastri che dobbiamo tutelare sono scuola e lavoro e le ordinanze incidono su quegli ambiti sarebbe opportuno un raccordo tra governo e regioni. Chiaro il riferimento al governatore De Luca che ha deciso di chiudere tutte le scuole della campagna. E allora l'avete sentito Boccia dice dove sono i ventilatori e ancora il Molise ha fatto i compiti a casa dalla fine del lockdown ad oggi lo abbiamo chiesto al presidente della regione Donato Toma. Presidente Toma questa mattina in videoconferenza allo Stato regioni il redder azionem ci sono state delle dichiarazioni del ministro per le autonomie regionali Francesco Boccia che dice dove sono finiti i ventilatori che abbiamo consegnato alle regioni. Allora la domanda che le faccio è questa il Molise ha fatto i compiti a casa? Il Molise ha fatto i compiti a casa benissimo noi abbiamo l'inventario dei ventilatori che ci hanno consegnato quelli che ci servivano li abbiamo utilizzati in questo momento non abbiamo terapie intensive interessate per cui i ventilatori sono inattivi quando nel momento in cui ci serviranno verranno attivati. Il problema riguardava più altre regioni che la nostra ma non era una polemica quella di Boccia. Oggi ho rappresentato io come spesso faccio la conferenza delle regioni nella Stato regioni non era una nota polemica quella di Boccia ma è comunicato insieme ad Arcuri che stavano facendo un inventario delle dotazioni affidate alle regioni. Ricordo che quelle dotazioni non sono in proprietà alle regioni ma sono in comodato d'uso perché che qualora una regione ne dovesse aver bisogno la regione che non utilizza quei ventilatori glieli dovrà andare. Una sorta di principio di solidarietà. Esatto è il principio fondamentale. Tutti i presidenti hanno autonomia di fare ordinanze più restrittive. Lei pensa a qualche ordinanza restrittiva in Molise anche alla luce degli ultimi risultati? Allora le do dei dati che lei conosce che i molisani che seguono le vicende covid conoscono. Noi abbiamo una diffusione dei contagi più uniforme sul nostro territorio per cui non puoi dire che c'è una zona particolarmente colpita e quindi la devi chiudere, devi fare una zona rossa. È tutto il Molise che è uniformemente colpito anche se in misura più bassa rispetto alle altre regioni. E le do un altro dato. Non abbiamo pazienti in terapie intensive e stiamo gestendo in maniera, in modo domiciliare i positivi senza particolari situazioni di gravità. Per cui non vedo il motivo di attuare ordinanze più restrittive. Fermo restando che i governatori laddove vedessero la necessità di attuare un comportamento più restrittivo rispetto al DPCM e gli stessi sindaci laddove riscontrassero tale situazione possono agire tranquillamente. Oggi in conferenza Stato-Regione è stato ribadito e io concordo con questa impostazione che su determinati assi quali la scuola e il trasporto, anche se i governatori hanno piena autonomia in caso di emergenza, però è opportuno che ci diamo una linea comune e condivisa con il governo, così da non fare corse in avanti che magari potrebbero danneggiare altre regioni. attenzione, domani mattina alle 9 noi abbiamo un incontro informale con il Ministro della Sanità Speranza e il Ministro delle Autonomie Locali Boccia e gli altri presidenti proprio per coordinarci e non agire individualmente. Con l'aumento dei contagi il Molise riflette sulle misure di contrasto, scusatemi, il governo riflette sulle misure di contrasto da adottare. Tra queste c'è anche la possibilità del coprifuoco alle 22, un coprifuoco stile Francia. Abbiamo ascoltato l'opinione dei cittadini. Sentite, Andrea Vertoli. Coprifuoco alle 22 sulla falsariga di ciò che accade in Francia. Mascherina obbligatoria all'aperto, misura che resta tra le altre quelle già adottate nel nuovo DPCM. Tanti saranno comunque i nodi da sciogliere nel prossimo Consiglio dei Ministri. Abbiamo ascoltato in questo senso l'opinione della gente. Alle 22? Già sto a dormire io, per cui non è un grosso problema. Per i giovani, forse per chi gli piace stare in mezzo alla strada, potrebbe essere un problema. A me andrebbe bene, perché io sono un anziano, quindi per i giovani purtroppo è negativo. Siamo d'accordo, per me è giusto che sia così. È una cosa ottima, perché non è questo orario che crea problemi. Questo è un momento particolare e tutti devono fare dei sacrifici. Mi dispiace solamente per quelle persone che ci lavorano in quegli orari. Bisogna fare qualche cosa per dargli un contributo. Ma se è giusto, perché la movita ha creato un po' di problemi. E l'abbiamo visto in tutte le regioni, in tutte le altre città. Con questo governo la rovina, perché ci sta rovinando. Dopo li vediamo dopo, tutti questi problemi. Loro stanno bene, prendono i loro stipendi. Povera gente che dovranno tutti chiudere. In provincia di Sernia i tamponi si fanno solo a Venafro. Ciò crea enormi disagi alla popolazione. Il parcheggio del Veneziale, con percorsi separati, si presta particolarmente per un drive-in e risolverebbe molti problemi. Ma l'Azerem per il momento non ha considerato tale ipotesi. Sentite Nicola De Santis. In provincia di Sernia le persone che hanno il sospetto di essere positive, o coloro che sono entrati in contatto con positivi acclarati, vengono spediti dal medico di famiglia o dall'Azerem a Venafro per fare il tampone, in un locale all'uopo allestito all'interno del Santissimo Rosario. Che piova o che ci sia il sole, che soffi il vento, che nevichi, gli utenti che devono sottoporsi a tampone aspettano sul piazzale pazientemente il proprio turno. Se però non si possiede una prenotazione da parte degli organi preposti, non è possibile effettuare l'esame, a prescindere da qualsiasi condizione. Il problema oggi che noi abbiamo una figlia contagiata, è andata a accompagnare una sua amica ed eccola che rientra, o ieri ha saputo, oggi nessuno. Ora arriviamo qua, una piccola, una servente infermiera, non sa quello che deve fare. Ieri ha ricevuto che era positiva e noi sta in famiglia con noi, quindi noi oggi siamo arrivati per fare il tampone, perché vogliamo anche sapere noi come stiamo. Ci vuole una procedura infinita, una procedura infinita per fare un tampone. Niente, arrivato a casa e aspetto la loro chiamata. Che devo fare? Ieri pomeriggio, in fila nel parcheggio del Santissimo Rosario, vi erano decine di persone di ogni età, sesso o religione e c'erano anche molti bambini collegati al cluster della San Giovanni Bosco. Il punto è proprio questo. La gran parte della popolazione scolastica provinciale gravita su Isernia. Isernia è anche la città più grande del comprensorio, con i suoi 18.000 abitanti e molti uffici pubblici hanno sedia a Isernia. Ed allora perché allestire un centro di raccolta dei tamponi a Benafro creando un enorme disagio alla popolazione. Siamo nel pieno della seconda ondata della pandemia. I casi purtroppo sono destinati ad aumentare in maniera esponenziale. Sarebbe dunque opportuno allestire un centro di raccolta dei tamponi e di consegna dei referti anche nei pressi dell'ospedale veneziale. Ad esempio il parcheggio di fronte all'obitorio è particolarmente ampio. Presenta un ingresso ed un'uscita che garantiscono percorsi separati. Inoltre è in una posizione strategica rispetto all'arresto della provincia Petra. Sarebbe un perfetto drive-in per consentire agli operatori sanitari di raccogliere i tamponi consentendo ai cittadini di restare in macchina. In tal modo si eviterebbe anche l'esposizione degli utenti a potenziali fattori di rischio. Adottando un minimo di buonsenso la soluzione sembra essere a portata di mano. Agevolare le attese e l'accesso degli utenti presso le strutture sanitarie anche per l'emergenza covid-19. La finalità di un provvedimento firmato dal direttore generale dell'azienda sanitaria regionale del Molise, Oreste Florenzano, per la realizzazione di cinque tettoie. Nello specifico le strutture verranno collocate al distretto sanitario di Isernia, presso la palazzina amministrativa, all'ingresso dell'ospedale Santimotio di Termoli, all'ingresso lato principale del poliamburatorio di via Ugo Petrella a Campobasso e in quello del cortile interno all'ingresso dei locali ex ingegneria clinica adibiti appunto per effettuazione i tamponi presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. Ed ora la cronaca. È tornato a casa il vice direttore della BCC di Gambatesa, coltellato da un collega lo scorso 8 ottobre. L'avvocato cecanese dice è psicologicamente provato ma non c'erano precedenti tra i due. Intanto gli inquirenti spulciano le immagini della videosorveglianza. Cecanese lo abbiamo intervistato questo pomeriggio, sentite. Avvocato cecanese il suo assistito come sta? Il mio assistito da un punto di vista fisico sta bene perché oggi è uscito dall'ospedale, lo hanno dimesso però da un punto di vista psicologico soffre ancora perché ancora ricorda i momenti salienti di quella aggressione brutale che ha subito. Lei ha parlato con il suo assistito ovviamente. Come è andata? Cosa è successo? Io ho parlato con il mio assistito telefonicamente e mi ha raccontato che non ricorda bene l'episodio. Quello che ricorda è che all'improvviso senza un plausibile motivo, senza che c'è stata alcuna discussione, si è girato, è stato preso con una mano alla testa e con l'altra è stato sgozzato. Questo ricorda. Tra i due non c'erano precedenti? Assolutamente no, anche perché mi diceva che erano sette giorni che lavorava alla filiale di Termoli per cui l'8 ottobre si è trovato a Gambatesa perché doveva risolvere una problematica che aveva la banca di Gambatesa. Quindi è stato casuale che si è trovato quel giorno a Gambatesa. Lei è illegale anche dell'istituto di credito, ecco la banca come si tutelerà. Rispetto a questo episodio che non si doveva verificare, un episodio gravissimo, la banca ha già intrapreso l'azione per licenziare questa persona e laddove ci saranno i presupposti si costituirà parte civile nell'eventuale giudizio. Un'ultima cosa, l'arma, che fine ha fatto? Io non lo so l'arma che fine ha fatto. So che ci sono delle riprese video che sono state consegnate all'organo inquirente. So che dopo l'aggressione nell'immediatezza, allora quando è intervenuto il direttore della banca a portare i primi soccorsi alla vittima, l'aggressore si è recato nel bagno, è stato un paio di minuti, è uscito e si è andato a mettere dietro la sua postazione come se nulla fosse. E dal Molise il riconoscimento di regione con il più alto Covid-SFT Index che calcola la percezione dei viaggiatori relativamente alle misure anti-Covid adottate da hotel, ristoranti e attrazioni. Un riconoscimento importante grazie al lavoro degli imprenditori che si sono dimostrati all'altezza della situazione. Le istituzioni sapranno esserlo. Sentite. C'è anche il Molise tra le premiate di quest'anno al TTG Travel Experience, quinta edizione di Italia Destinazione Digitale, l'Oscar delle regioni italiane ideato da The Data Peel Company per restituire ai territori un risultato concreto del monitoraggio e dell'analisi dei big data raccolti e analizzati dall'intelligenza artificiale di Travel Appeal. Al Molise il riconoscimento di regione con il più alto Covid-SFT Index che misura la percezione dei viaggiatori relativamente alle misure anti-coronavirus adottate da hotel, ristoranti e attrazioni. Una lettura inedita del turismo a partire da chi i territori li visita e li vive. In tantissimi nel periodo post-lockdown hanno scelto il Molise per le loro vacanze, apprezzando l'innato distanziamento sociale, l'accoglienza impareggiabile che caratterizza i molisani e la perfetta organizzazione dei operatori del settore turismo, imprenditori lungimiranti che hanno saputo temperare alle direttive anti-Covid senza rinunciare all'alta qualità del servizio offerto. I molisani hanno compreso l'importanza dell'applicazione delle norme anti-coronavirus e l'impatto positivo sulla percezione dei turisti, facendo apprezzare dai visitatori il nostro modello di accoglienza protetta, il commento del presidente della regione Donato Toma. Ora il Molise è atteso da una sfida ancora più importante, consolidarsi, confermarsi, anzi continuare a stupire. I operatori del settore sono pronti e lo hanno dimostrato con i fatti. Lo stesso può dirsi delle istituzioni. La regione ha messo in campo una politica efficace. Il tempo, come sempre, sarà galantuomo. Infine le altre premiate. Il Trentino, regione con la migliore reputazione online. Il Lazio, quella più recensita, la più accogliente, la Valle d'Aosta, la più amata dai turisti stranieri, la Sicilia, con la migliore offerta enogastronomica, l'Umbria. Torniamo alla cronaca perché continua l'attività di prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato di Campobasso. Gli agenti della squadra volante della Questura hanno fermato in via Garibaldi un'auto con a bordo due uomini originari di San Severo, pluri pregiudicati per reati contro il patrimonio che non avevano alcun motivo valido, sia lavorativo che affettivo, per trovarsi nel capologo. Pertanto, nei loro confronti, sono stati emessi dal questore di Campobasso due fogli di via con divieto di ritorno dal comune di Campobasso per tre anni. È stato inoltre denunciato, è stato di libertà per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, un cittadino del posto residente in Germania che, in evidente stato di ebrezza alcolica, urlava in strada proferendo frasi sconnesse all'indirizzo dei parenti presenti che hanno avvisato le forze dell'ordine. E la polizia stradale di Campobasso, nella zona periferica di Mirabello Sannitico, ha controllato un'ufficina meccanica attrezzata di sollevatori, banchi da lavoro, pistole pneumatiche, saldatrici ed altri attrezzi. L'esercizio è risultato tuttavia condotto abusivamente, in quanto il titolare non aveva presentato alla locale Camera di Commercio, così come prescritto dalla legge, l'obbligatoria segnalazione certificata di inizio attività di autoriparatore. Gli operatori della polizia stradale hanno proceduto a contestare la relativa sanzione amministrativa che prevede il pagamento di 5.000 euro. Sono state altresì sequestrate ai fini della confisca tutte le attrezzature e le strumentazioni presenti, che dopo l'iter procedimentale previsto saranno poste in vendita all'asta ed il ricavato andrà all'erario. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato 17 ottobre sul Molise. Nubi in aumento con possibilità di qualche fenomeno nel pomeriggio. Benti deboli, mare mosso, queste le temperature nel dettaglio. Campobasso minima 7, massima 15 gradi. Isernia minima 7, massima 16 gradi. Termoli 17, 18 gradi. Venafro minima 8, massima 15 gradi. Davvero tutto per questa edizione. Restate con noi. Tra pochissimo c'è la pagina sportiva, il calcio di Seredi con il Campobasso, con le prime parole del nuovo DS dell'Olimpia agnonese che annuncia rinforzi importanti. Poi il vasto girardi parleremo anche di Fuzza. A tra poco. Lo sport, il calcio di Seredi iniziamo dal Campobasso, bontà ed esposito verso il recupero nella rifinitura di domani mattina. Mister Cudini deciderà se mandarli in campo dall'inizio o durante il match al Romagnoli. Arriva il Montegiorgio, squadra con sei punti in classifica e da prendere con le molle. In tribuna 600 spettatori, in pratica gli abbonati. Campobasso determinato a centrare l'intera posta in palio per non mollare la testa della classifica. La gara sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione dell'Aquila. Ed ora l'Olimpia agnonese. Vi proponiamo in esclusiva le dichiarazioni del nuovo direttore sportivo Antonello Strino, intervenuto ieri sera nel corso di Molise Sport. Sono arrivati nuovi acquisti, sono arrivati i rinforzi. L'agnonese si salverà. Allora sentite uno stralzo del suo intervento. Sì, è un'idea della proprietà della New Energy Company, gas e luce, è uno dei titolari originario di questa zona. Capracotta se non sbaglio. Di Capracotta, esatto. Per cui cercava questa soluzione in zona di poter prendere una società di caccio. Dopo aver preso l'Upa Altraschiade a Roma, l'Arezzo in Serie C, cercavamo una Serie D nel Molise. Avete esperienza quindi? È una garanzia per gli amici di Agnone? L'esperienza ne abbiamo sufficiente. Abbiamo Roberto Muzzi, che è il giocatore Roma-Lazzo Gaglia di Torino, che conoscete perfettamente, ed è responsabile dell'area tecnica di tutte e tre le società. Io provengo dalla Roma-Calcio come osservatore che ha stretto contatto con Bruno Conti da ormai da parecchi anni. Quindi diamo la nostra esperienza all'agnonese. Certo. Sa benissimo, meglio di me, che comunque il campionato di Serie D è un campionato molto difficile, molto particolare anche. Assolutamente sì. Il girone poi è un girone molto, molto forte, dove la società come il Campobasso, tra le prime, è una società importante e quindi sappiamo perfettamente che siamo coscienti della forza di questo girone. Però piano piano stiamo rivoluzionando anche noi l'aspetto tecnico. Certo. Ecco, direttore, abbiamo visto anche delle foto. Insomma, che impressione le ha fatto l'ambiente? L'ambiente è veramente ottimo, pulito, è composto da persone per bene. e ce li siamo tenuti vicino. La vecchia dirigenza qualcuno è rimasto, altri ovviamente hanno lasciato l'incarico e ce li siamo tenuti volentieri vicino. Ci aiuteranno moltissimo. Avete già in mente qualcosa? Ho sentito parlare di un calciatore proveniente dalla Serie B belga? Assolutamente sì. Abbiamo chiuso il contratto questa notte con il giocatore belga, con il suo procuratore, Didier. Questo ragazzo già stamattina era ad allenarsi con il gruppo. Farà parte ovviamente della partita non domenica, ma la successiva. Certo. È un giocatore importante che arricchisce praticamente la rosa. Abbiamo portato otto giocatori nuovi e lui è il nono giocatore. Non ci siamo fermati ancora più perché manca un difensore centrale che stiamo cercando. Ecco, come sa, l'Olimpia Agnonese è da tantissimi anni in questa categoria, nonostante Agnone sia un piccolo centro e ha anche un bel impianto. Uno dei primi tra l'altro senza barriere. Poi come diceva, la gente è sana, è un bel panorama. Ci sono tutti gli ingredienti insomma per fare bene, direttore. Certamente, certamente. Noi vogliamo dare il massimo, il massimo per dare soddisfazione a questo Paese che sono 14 anni che milita in questa categoria e quindi c'è qualcosa di buono, qualcosa di vero. Le persone sono importanti, le persone di Agnone. daremo continuità ovviamente, daremo questa continuità. Poi quello che viene, adesso dobbiamo pensare alla salvezza. Fatta la salvezza, dopo vediamo quello che si può fare. Abbiamo allestito un'ottima squadra. E allora vedremo cosa saprà fare la nuova dirigenza dell'Olimpia agnonese. Ora parliamo di Masso Girardi, che affronterà domenica il Rieti, ancora una volta all'Acqua Santiani di Trivento. Il di Tela infatti non è ancora pronto e nel contempo Prosperi lavora sulla squadra, sulla formazione da mandare in campo. Sentite il contributo. Si gioca a Trivento, ora ufficiale, con il Rieti ancora all'Acqua Santiani. Il di Tela di Vasto Girardi è pronto. Da Roma avrebbero dato l'ok, ma all'appello mancherebbero alcuni adempimenti che toccano all'amministrazione comunale. Dunque slitta ancora l'esordio tra le Muramiche, che a questo punto potrebbe essere procrastinato. Al primo novembre contro il Fioggi, risolto il Rebus Campo, la truppa giallo-blu è concentrata sul prossimo impegno. Con il Rieti la chiara possibilità di riscattare la sconfitta di Pineto. Una sconfitta immeritata con gli altomolisani che avrebbero meritato almeno il pari. Ripartiamo dalla prestazione in Abruzzo. Le parole del tecnico Luca Prosperi, che ha molto apprezzato il comportamento dei suoi, sia dal punto di vista tecnico che nell'interpretazione tattica. Prosperi è a lavoro per decidere la formazione da mandare in campo. Fatta eccezione per l'attaccante Salatino, che deve scontare il quarto di cinque turni di squalifica rimediati nella scorsa stagione, potrà contare sull'intera rosa. Si va verso la fiducia all'undici che sette giorni fa ha lasciato i tre punti al Pineto. L'obiettivo ovviamente vincere blindando la porta del giovane guerra, puntando sulla difesa collettiva e sull'esperienza di Ruggeri e contestualmente ripartire con efficacia, impostare nella metà campo avversare e colpire attaccando gli spazi, dinamiche che il vasto Girardi conosce alla perfezione. La gara sarà diretta da Riccardo Gaiardini della sezione di Bacerata. Ed ora il calcio regionale, il torneo di eccellenza con la grafica. Vediamo le gare che sono in programma nel weekend. Eccole alla Fidelis Casteltisangro, Alto Casteltano Boiano, Baranello Polisportiva Campo di Pietra, Isernia Venafro, Metramonte Corvino San Leucio Volturnia, Gambattesa Rial Guionesi, Sesto Campano Aurora Ururi, Termoli Campo Basso 1919. Quinta giornata. Quinta giornata anche nel torneo di promozione. Anche qui le gare in programma Torre Maggiore Turris, Cliternina Termoli, Guardia Alfiera Polisportiva Fortore, Maronea Trivento, Petacciato Spinete, quartiere Campobarso Nord Atletico San Pietro in Valle, Ripa Limosani Campomarino, Virtus Gioiese, Altilia Samnium. Ed ora il basket di Serie A1 femminile. Vediamo gli incontri in programma nel weekend. Qui è la quarta giornata. Ci sono tre anticipi. Gli anticipi sono Vigarano Schio ed ancora. altre due gare. Quella tra San Martino di Lupari e Costa Masnaga. Ed ancora l'ultimo anticipo riguarda la Dinamo Sassari contro la Virtus Bologna. Un super match. In campo domenica invece la molisana Magnolia Campobasso che sarà di scena ad Empoli. Ed ora il Futsal di Serie A2. Vediamo gli incontri. In programma domani c'è l'esordio casalingo per il circolo. La nebbia Cus Molise contro Futsal Pistoia. Poi Futsal Capurso Manfredonia. Lucrezia Castelfidardo. Tombesi Ortona Giovinazzo. Virtus Rutigliano Atletico Cassano. E bis Gubbio Futsal Cobà. E allora vediamo nel servizio come si è preparata la formazione di Marco Sanginario a questo importante appuntamento. Prima uscita stagionale per il circolo la nebbia Cus Molise sul parquet del Pala Unimol. Il quintetto di Sanginario dovrà vedersela contro il Futsal Pistoia. Autentica novità per il girone della Serie A2, girone C. Dalla loro di Stefano e compagni arrivano alla contesa forti di un precampionato di assoluto spessore che li ha visti superare anche l'acqua e sapone di massima serie. Tutti a disposizione, gli elementi di un gruppo che quest'anno ha aggiunto alle proprie rotazioni il pivot Melfi ed il brasiliano Passual. Vedendo ritornare alla base anche il portiere Roman. A vedere il match saranno pochi intimi in considerazione di una percentuale di affluenza scesa da decreto governativo dal 25 al 15%. Credo, ha affermato alla vigilia il tecnico del circolo la nebbia Cus Molise Marco Sanginario, che ci siano tutte quante le condizioni per poter far bene una buona stagione. Siamo in condizione, abbiamo fatto un ottimo precampionato anche se quando ci sono i tre punti in palio cambia tutto. Chiudiamo con il Futsal di Serie B. Anche qui si tratta della prima giornata e prima giornata caratterizzata subito dal derby. Sporting, Venafro, Chaminade, Campobasso, le altre gare del raggruppamento G sono Barletta, Molfetta, Canosa, Torremaggiore, Diaz, Itria, Mirto, Bitonto, San Michele, invece il San Michele credo riposi, anzi no, riposa il Real Dem, quindi il San Michele affronterà un altro avversario e poi come vi dicevo Sporting, Venafro, Chaminade. Bene, è davvero tutto per questa edizione, grazie per averci scelto, arrivederci.